Rispetto, responsabilità, empatia e squadra, questi sono i valori chiave promossi nell'ambito sportivo che nel corso degli anni, con una crescente sensibilità, hanno contribuito a trattare la disabilità in modo più rispettoso, mettendo la persona al centro. Sebbene non esista un linguaggio universale per parlare di disabilità, lo sport si è rivelato uno strumento fondamentale per diffondere una cultura basata su valori e rispetto. In questa direzione si è svolto a Teramo l'incontro, le parole dell'inclusione, lo sport Semina Cultura, un evento che ha affrontato il tema della comunicazione in relazione alla disabilità, evidenziando come anche il calcio possa fungere da strumento educativo e di integrazione. Ospite d'onore dell'evento Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Direttanti. Lo sport è entrato ufficialmente in Costituzione il 20 settembre dell'anno passato, del 2023, e nell'articolo 33 si parla proprio del valore educativo, del valore sociale, del benessere psicofisico come dimensioni fondamentali dello sport. Siamo all'interno del mondo del calcio, il mondo del calcio ha tante sfaccettature, dai grandi club professionistici al calcio di base, a 750.000 giovani, e naturalmente con una particolare attenzione per le disabilità, per coloro i quali naturalmente attraverso lo sport si integrano, e in qualche modo sono soggetti protagonisti della loro vita. E quindi il tema di oggi, quello dell'inclusione, quello della cultura sportiva, della capacità di accoglienza, della capacità di fare gruppo, è fondamentale. L'evento ha sottolineato come lo sport non sia solo competizione, ma anche un mezzo per costruire una società più inclusiva e rispettosa, capace di valorizzare ogni individuo per le sue capacità e potenzialità. Il mondo dello sport è il mondo in cui le differenze vengono abbattute, e tutti possono essere inclusi nello sport, ma attraverso anche le buone regole, l'abbattimento proprio dei confini naturali. Anche le parole che noi utilizziamo possono aprire delle porte, ma possono essere anche tremende e chiudere le porte, anche nel gioco, nello sport e soprattutto nel calcio. Attraverso lo sport si può realizzare la piena inclusione, dove ognuno di noi non è che viene messo in un campo e gioca, ma ha la propria valorizzazione, le proprie peculiarità e determinazione all'interno di un campo da calcio.